Video 17 parte 5. Come ho dipinto questa spiaggia al chiaro di luna. Aggiungo un po' di colore giallo e nero per la miscela. Ho anche mix più giallo e bianco in un'altra parte della miscela. Io uso il più luminoso colore per dipingere la parte trasparente delle onde dell'oceano. Questa parte l'onda dell'oceano è il più luminoso del colore. Prendo il colore scuro e lo dipingere sotto il colore brillante. La parte inferiore delle onde dell'oceano è sempre più scuro del colore. Poi ho mescolare i due colori insieme. Poi ho dipingere le increspature dell'acqua con questo metodo. Questo video continuerà in parte 6.